Capitolo 12 20 minuti più tardi, dopo una lunga camminata in silenzio. Era impressionante, pensò Garrett, con non poca avversione verso se stesso, come un solo breve incontro con il barone potesse rovinargli una bellissima giornata. E non si trattava nemmeno del barone. Certo, lo odiava, ma non era quello a tormentarlo, a tenerlo sveglio la notte, a farlo sentire uno stupido. Odiava ciò che suo padre provocava in lui, il fatto che una conversazione con lui potesse trasformarlo in una persona del tutto diversa, o quantomeno una stupefacente imitazione di se stesso a 15 anni. Per l'amor del cielo, adesso era un adulto, un uomo di 28 anni. Era uscito di casa e si sperava fosse anche cresciuto. Doveva riuscire a comportarsi da adulto quando parlava con il barone. Non avrebbe dovuto sentirsi in quel modo. Non avrebbe dovuto provare nulla, nulla. Invece andava sempre a finire così. Si infuriava, si incattiviva e diceva le cose per il puro gusto di essere provocatorio. Era scortese e immaturo, ma non sapeva come fare a smettere. E quella volta era accaduto davanti a Hyacinth. L'aveva accompagnata a casa in silenzio. Era chiaro che lei avesse voglia di parlare. Diamine, anche se non glielo avesse letto in volto, lo avrebbe saputo comunque. Hyacinth aveva sempre voglia di parlare. Ma evidentemente, ogni tanto, sapeva anche quando era il momento di tenere la bocca chiusa. E adesso si trovavano lì, davanti al portone di casa sua, con la cameriera ancora dietro di loro a cinque passi di distanza. Mi dispiace per la scenata nel parco. Le disse all'improvviso, sentendo di doversi in qualche modo scusare. Penso che non ci abbia visto nessuno, replicò lei. O almeno che nessuno abbia sentito nulla. E non è stata comunque colpa vostra. Lui fece un mezzo sorriso. Certo che era colpa sua. Forse suo padre lo aveva provocato, ma ormai Garrett avrebbe dovuto essere capace di ignorarlo. «Volete entrare?» gli domandò Hyacinth. Lui scosse la testa. «Meglio di no». Lo fissò con un'espressione stranamente seria. «Vorrei che entraste», gli disse. Era una semplice affermazione, così diretta che Garrett capì di non poter rifiutare. Le fece un cenno di assenso con il capo ed entrarono in casa. Il resto della famiglia non c'era più e così si trovarono nel salottino rosa e crema da soli. Hyacinth chiuse la porta. Completamente. Garrett era perplesso. In alcuni ambienti una porta chiusa era sufficiente a imporre un matrimonio. «Ho sempre pensato», esordì Hyacinth un momento dopo, «che l'unica cosa che avrebbe reso la mia vita migliore fosse un padre». Lui non commentò. «Tutte le volte che mi arrabbiavo con mia madre o con uno dei miei fratelli, pensavo, se avessi un padre sarebbe tutto perfetto e lui prenderebbe sicuramente le mie difese». Sollevò lo sguardo, con le labbra piegate in un mezzo sorriso. Naturalmente non lo avrebbe fatto, visto che nella maggior parte dei casi avevo torto, ma fantasticarlo mi dava conforto. Garrett rimase in silenzio, immaginando di essere un Bridgerton con tutti quei fratelli, quelle risate. Non riuscì a reagire in alcun modo, perché gli risultava troppo doloroso pensare che lei aveva avuto tutto e nonostante ciò voleva ancora di più. «Sono sempre stata gelosa delle persone che avevano un padre». Continuò. «Ora non più». Lui si voltò di scatto, fissandola dritta negli occhi. Hyacinth ricambiò allo sguardo in modo altrettanto diretto e lui si rese conto di non poter guardare altrove. «È meglio non avere affatto un padre piuttosto che averne uno come il vostro, Garrett», osservò pacatamente. «Mi dispiace tanto per voi». Questa fu la sua rovina. Davanti a lui c'era una fanciulla che aveva tutto, o perlomeno tutto ciò che Garrett credeva di avere sempre desiderato. Eppure riusciva a capire. «Io quantomeno ho dei ricordi», proseguì sorridendo omestamente. «Anche se sono ricordi riportati da altri. So chi era mio padre e so che era un uomo buono. Mi avrebbe amato se fosse stato vivo, senza riserve e senza condizioni». Aveva un'espressione che Garrett non aveva mai visto prima. Un misto tra il capriccioso e il biasimo per se stessa. Non era tipica di Hyacinth e ne restò incantato. «E so bene», aggiunse con il tono di chi non riesce quasi a credere a ciò che sta dicendo. «Che spesso è davvero difficile amarmi». Improvvisamente, Garrett si rese conto che c'erano cose che arrivavano come in un lampo. C'erano cose che si sapevano senza poterle spiegare, perché mentre la guardava non riusciva a pensare ad altro che… No, sarebbe stato piuttosto facile amare Hyacinth Bridgerton. Non sapeva da dove gli arrivasse quel pensiero o quale remoto angolo del suo cervello fosse giunto a quella conclusione, perché era quasi certo che fosse praticamente impossibile vivere con lei. Ma in qualche modo sapeva che non sarebbe stato affatto difficile amarla. «Parlo troppo», riconobbe lei. Garrett si era perduto nei propri pensieri. «Che cosa stava dicendo?» «Sono molto cocciuta». «Era vero, ma…» «E sono una vera seccatura quando non riesco a ottenere ciò che voglio, anche se mi piace pensare che nel complesso sono ragionevolmente ragionevole». Garrett cominciò a ridere. «Santo il Dio, Hyacinth stava enumerando i motivi per cui era difficile amarla. Aveva ovviamente esaminato bene tutti i suoi difetti, ma nessuno sembrava davvero importante, perlomeno non al momento». «Che c'è?» domandò sospettosa. «State zitta», le disse avvicinandosi. «Perché?» «Tacete e basta». «Ma…» le appoggiò un dito sulle labbra. «Fatemi un favore», aggiunse dolcemente. «Non dite una sola parola». Stranamente lei obbedì. Per un momento Garrett non fece altro che guardarla. Era così raro che stesse ferma, il volto immobile, senza parlare o esprimere un'opinione anche solo arricciando il naso. Restò lì a fissarla, memorizzando i suoi occhi che si spalancavano per lo sforzo di tacere. Assaporò il suo respiro caldo sul dito e il buffo gemito che emise senza rendersene conto. Poi non riuscì a evitarlo. La baciò. Le prese il viso tra le mani e posò la bocca sulla sua. L'ultima volta era infuriato e l'aveva vista come una specie di frutto proibito, l'unica giovane che suo padre era convinto non potesse avere. Questa volta, però, avrebbe fatto tutto per bene. Questo sarebbe stato il loro primo bacio. Un bacio da ricordare. Le sue labbra furono dolci, gentili. Aspettò che lei sospirasse, che il suo corpo si rilassasse. Non avrebbe preteso nulla finché lei non avesse chiarito di essere pronta e a quel punto le avrebbe offerto tutto se stesso in cambio. Le sfiorò le labbra, solo quel tanto da percepirne il calore. La stuzzicò con la lingua, morbida e dolce, finché lei non socchiuse la bocca. A quel punto la assaporò. Era dolce, calda, e stava rispondendo al suo bacio con un diabolico miscuglio di innocenza ed esperienza che mai avrebbe immaginato. innocenza perché era abbastanza evidente che non sapesse quello che stava facendo. Esperienza perché nonostante tutto lo faceva impazzire. La baciò con maggior passione, facendole scivolare le mani lungo la schiena. Una si fermò a metà, l'altra scese fino alla curva delle natiche. La attirò a sé contro la prova del proprio desiderio. Era una follia. Si trovavano nel salottino di Lady Bridgerton, a due passi da una porta che da un momento all'altro rischiava di essere aperta da un fratello che non avrebbe avuto alcun problema a farlo a brandelli. Tuttavia non riusciva a fermarsi. la voleva. Voleva tutto di lei. «Vi piace?» mormorò, portandole le labbra all'orecchio. La sentì annuire e poi ansimare quando le prese il lobo fra i denti. Quella reazione lo eccitò, lo rese più ardito. «E questo vi piace?» sussurrò portandole una mano sul seno. Lei annui nuovamente e questa volta gemette un debole... «Sì!» Lui non poteva evitare di sorridere, né di infilarle una mano sotto il mantello. Adesso, fra la sua mano e il seno di lei, c'era soltanto la sottile stoffa dell'abito. «Questo vi piacerà anche di più?» disse maliziosamente, sfiorandole il capezzolo con il palmo fino a farlo indurire. Aya si integgemette e lui si prese altre libertà. Strinse il capezzolo fra le dita, lo stuzzicò e lo titillò strappandole un altro gemito, mentre lei gli ghermiva le spalle con ardore. «Sarebbe stata fantastica», ha letto, comprese in preda una soddisfazione primitiva. Non avrebbe saputo quello che stava facendo, ma non importava. Avrebbe imparato in fretta e lui avrebbe goduto un mondo a insegnarle tutto. E sarebbe stata sua. Sua! Quando ricominciò a baciarla sulle labbra, pensò «Perché no? Perché non sposarla? Perché non…» Si tirò indietro, continuando a tenerle il volto fra le mani. Certe cose andavano considerate a mente fredda e la sua mente non aveva nulla di freddo quando baciava Aya Sint. «Ho fatto qualcosa di sbagliato?» sussurrò lei. Garrett scosse la testa, incapace di fare altro se non guardarla. «Allora perché…» la zitti appoggiandole un dito sulle labbra. «Perché non sposarla?» Tutti sembravano volerlo. Sua nonna lo incalzava da oltre un anno e la famiglia di lei aveva avuto la delicatezza di un elefante accennando a un eventuale matrimonio. Inoltre Aya Sint gli piaceva molto più di tutte le donne che aveva conosciuto. Era vero che a volte lo faceva impazzire, ma nonostante tutto gli piaceva. Inoltre era sempre più chiaro che non sarebbe riuscito a trattenersi ancora per molto dall'allungare le mani su di lei. Un altro pomeriggio del genere e l'avrebbe rovinata. Riusciva a immaginare chiaramente l'intero quadro. Non soltanto loro due, ma tutte le persone della loro vita. La famiglia di Aya Sint, sua nonna, suo padre. Garrett rischiò di scoppiare a ridere forte. Che meraviglia! Poteva sposare Aya Sint, una prospettiva che si stava rivelando estremamente piacevole, e allo stesso tempo mettere in imbarazzo il barone. Era un colpo che l'avrebbe ucciso. «Però doveva fare tutto per bene», giudicò sfiorandole la guancia mentre si allontanava. Non aveva vissuto una vita sempre all'insegna della correttezza, ma c'erano cose che andavano fatte da gentiluomini. Aya Sint non meritava nulla di meno. «Devo andare», mormorò prendendole una mano e baciandola in un cortese gesto di commiato. «Dove?», domandò ansiosa lei, con gli occhi ancora velati dalla passione. Era soddisfatto di essere riuscito a sconcertarla, di averla privata della sua tipica sicurezza di sé. «Ci sono cose su cui devo riflettere», rispose, «e altre che devo fare». «Ma cosa...», le sorrise. «Lo scoprirete presto». «Quando?», Garrett si incamminò verso la porta. «Siete tutta una domanda questo pomeriggio, vero?». «Non sarebbe necessario», replicò lei, recuperando chiaramente il proprio spirito, «se mi diceste qualcosa di significativo». «Al nostro prossimo incontro, Miss Bridgerton», mormorò lui dirigendosi verso il corridoio. «Ma quando?», gli domandò esasperata. Lui uscì ridendo. «Un'ora dopo, nell'ingresso di Bridgerton House. Pare che il nostro eroe non perda tempo». «Il visconte vi riceverà subito, Mr. St. Clair». Garrett fece un cenno con il capo e seguì il maggiordomo in un'area privata della casa. «È nel suo studio», aggiunse. Garrett annuì. Gli sembrava il posto giusto per il colloquio che aveva in mente. Lord Bridgerton avrebbe desiderato dar mostra di autorità e un incontro nel suo studio privato l'avrebbe reso ancora più evidente. Quando Garrett aveva bussato alla porta d'ingresso di Bridgerton House, cinque minuti prima, non aveva dato al maggiordomo alcuna indicazione sulle ragioni della propria visita, ma aveva la sensazione che il fratello di Iacint, il potentissimo Visconte Bridgerton, conoscesse le sue intenzioni alla perfezione. Perché Garrett sarebbe andato a trovarlo, altrimenti? Non ne aveva mai avuto motivo. Dopo aver conosciuto la famiglia di Iacint, non aveva dubbio che la madre di lei avesse già parlato con il figlio, discutendo della possibilità di un matrimonio. «Mr. St. Clair», esordì il Visconte, alzandosi da dietro la scrivania quando Garrett entrò. Era un buon segno. L'etichetta non prevedeva che si alzasse ed era quindi un gesto di rispetto nei suoi confronti. «Lord Bridgerton», lo salutò Garrett. Il fratello di Iacint aveva i suoi stessi capelli castani, solo che adesso stavano diventando brizzolati alle tempie. Era alto e aveva forse una dozzina di anni più di Garrett, ma si manteneva in forma perfetta. Garrett non avrebbe desiderato incontrarlo su un ring o in un duello. Il Visconte gli indicò una poltrona in pelle davanti alla scrivania. «Accomodatevi, prego». Garrett si mise a sedere, cercando di restare fermo e di non iniziare a tamburellare nervosamente con le dita sul bracciolo. Non si era mai trovato in una situazione simile e Diamine era davvero inquietante. Doveva apparire calmo, ragionare lucidamente. Non pensava che la sua proposta potesse essere rifiutata, ma gli sarebbe piaciuto uscire da quell'esperienza con una certa dignità. Se avesse sposato Iacint avrebbe avuto a che fare con il Visconte per il resto della vita e non voleva certo che il capo della famiglia Bridgerton lo considerasse un idiota. «Immagino che sappiate perché sono qui», esordì Garrett. Il Visconte, che aveva ripreso posto alla scrivania di Mogano, piegò leggermente la testa di lato. Aveva unito le punte delle dita, formando un triangolo con le mani. «Forse», disse, «per risparmiare entrambi un potenziale imbarazzo potreste esporre chiaramente le vostre intenzioni». Garrett inspirò profondamente. Il fratello di Iacint non gli avrebbe reso facili le cose, ma non aveva importanza. Aveva giurato di fare tutti i passi per bene e non si sarebbe lasciato intimidire. Sollevò lo sguardo, fissando gli occhi scuri del Visconte con determinazione. «Vorrei sposare Iacint», annunciò. Poi, visto che il Visconte non commentava in alcun modo, aggiunse «Sempre che lei mi voglia». A quel punto accaddero almeno otto cose in una volta, o forse soltanto un paio, ma sembrarono parecchie di più, tutte inaspettate. Il Visconte espirò, anche se quel termine non rendeva l'idea. Era più che altro un sospiro, immenso, stanco, accurato, tanto che Garrett ebbe letteralmente l'impressione di vederlo sgonfiarsi. Era stupefacente. Aveva incontrato il Visconte in svariate occasioni e conosceva abbastanza bene la sua fama. Non era proprio il tipo da accasciarsi o gemere. Nel frattempo, aveva anche mormorato qualcosa di impercettibile. E se Garrett fosse stato un uomo sospettoso, avrebbe creduto di sentirgli dire «Signore, vi ringrazio». E dato che, contemporaneamente, lo sguardo del Visconte si era alzato verso il cielo, parve l'interpretazione più probabile. Mentre Garrett stava decifrando tutti quei segnali, Lord Bridgerton picchiò i palmi delle mani sulla scrivania, con una forza sorprendente, ed esclamò «Vi posso garantire che vi vorrà». Non era esattamente ciò che Garrett si era aspettato. «Prego?» domandò, non riuscendo a trovare davvero altre parole. «Ho bisogno di bere qualcosa», commentò il Visconte alzandosi in piedi. «È necessario festeggiare, non vi pare?» «Eh, sì». Lord Bridgerton attraversò la stanza e prese una bottiglia, quindi la rimise al suo posto e borbottò fra sé. «No, ci vuole quello buono». Quindi si rivolse a Garrett con una strana luce negli occhi. «Ci vuole quello buono, non siete d'accordo?» Garrett non sapeva assolutamente come reagire. «Quello buono», confermò con decisione il Visconte. Scostò alcuni libri e tirò fuori quella che sembrava essere una bottiglia di cognac vecchissima. «Devo tenerlo nascosto», spiegò versandone un po' in due bicchieri. «La servi tu?» domandò Garrett. «I fratelli», rispose il Visconte porgendogli un bicchiere. «Benvenuto in famiglia». Garrett accettò l'offerta, quasi sconcertato da quanto si fosse rivelato semplice. Non sarebbe rimasto sorpreso se il Visconte avesse esibito una licenza speciale e un prete lì sul posto. «Grazie, Lord Bridgerton, io...» «Dovreste chiamarmi Anthony», lo interruppe il Visconte. «Stiamo per diventare fratelli, dopo tutto». «Anthony», ripete Garrett, «io volevo soltanto...» «Questo è un giorno magnifico», stava borbottando Anthony fra sé. Fissò quindi Garrett con sguardo acuto. «Voi non avete sorelle, vero?» «No», confermò Garrett. «Io ne ho quattro», dichiarò Anthony, buttando giù almeno un terzo del contenuto del suo bicchiere. «Quattro! E adesso mi sono liberato di tutte, ho finito», aggiunse con l'aria di una persona pronta a iniziare un balletto da un momento all'altro. «Sono libero!» «Avete delle figlie, però». Garrett non riuscì a evitare di ricordarglielo. «Soltanto una e ha solo tre anni. Passerà molto tempo prima che io debba ricominciare con queste storie. Se sarò fortunato si convertirà al cattolicesimo e si farà suora». A Garrett andò di traverso il cognac. «È ottimo, non è vero?» domandò Anthony fissando la bottiglia. «Ventiquattro anni di invecchiamento». «Non credo di avere mai bevuto nulla di così... antico», mormorò Garrett. «Allora», proseguì Anthony appoggiandosi contro il bordo della scrivania. «Adesso vorrete senz'altro parlare degli accordi». In realtà Garrett non aveva nemmeno pensato agli accordi, per quanto strano potesse sembrare per un uomo in possesso di così poche finanze. Era rimasto così sorpreso dall'improvvisa decisione di volere sposare Iacint, che gli aspetti pratici della questione non lo avevano nemmeno sfiorato. «Tutti sanno che ho aumentato l'ammontare della dote lo scorso anno», continuò Anthony con espressione seria. «Lo confermo, anche se spero che non sia questo il motivo principale per cui volete sposare mia sorella». «Certo che no», replicò Garrett in tono secco. «Non era la mia opinione, ma bisogna sempre chiedere», sentenziò Anthony. «Anche se fosse, ritengo che nessuno lo ammetterebbe mai in vostra presenza», commentò Garrett. Anthony lo fissò con espressione tagliente. «Mi piace pensare di essere in grado di giudicare un uomo abbastanza bene da capire se sta mentendo». «Ovviamente», replicò Garrett. Il visconte, tuttavia, non sembrava essersi offeso. «Allora, la sua dote è di…» Le parole gli si smorzarono sulle labbra. «Milord?», mormorò Garrett. «Scusatemi», disse Anthony riacquistando improvvisamente lucidità. «Non sono in me in questo momento, ve lo assicuro». «Ovviamente», mormorò Garrett, visto che a quel punto il partito migliore era dargli ragione. «Non ho mai creduto che questo giorno sarebbe arrivato. Abbiamo ricevuto offerte, naturalmente, ma nessuna degna di considerazione e non di recente». Emise un lungo respiro. «Avevo cominciato a temere che nessuna persona meritevole avrebbe desiderato sposarla». «Sembrate avere una bassa considerazione di vostra sorella», osservò Garrett freddamente. Anthony sollevò lo sguardo e sorrise. «Niente affatto, ma non mi sfuggono certo le sue, come dire, qualità peculiari». Si alzò e Garrett si rese conto che stava sfruttando la sua statura per intimidirlo. E comprese anche che non avrebbe dovuto fraintendere l'atteggiamento apparentemente leggero che aveva mostrato all'inizio. Era un uomo pericoloso, o almeno poteva esserlo se lo desiderava, e Garrett avrebbe fatto bene a non dimenticarlo. «Mia sorella Iacinth», disse lentamente il visconte, incamminandosi verso la finestra. «È eccezionale. Dovreste ricordarlo, se tenete alla vostra pelle, e trattarla per il tesoro che è». Garrett tenne a freno la lingua. Non era il momento giusto per ribattere. «Ma anche se Iacinth è eccezionale», continuò Anthony con l'atteggiamento di un uomo perfettamente abituato a esercitare il proprio potere. «Non è un tipo facile, sono io il primo ad ammetterlo. Non ci sono molti uomini in grado di starli al passo, e se restasse intrappolata in un matrimonio con qualcuno che non è in grado di apprezzare la sua singolare personalità, sarà molto infelice». Garrett restò in silenzio, ma non distorse lo sguardo dal volto del visconte. Anthony lo fissò di rimando. «Vi darò il permesso di sposarla», disse. «Ma voi dovrete riflettere a lungo prima di chiederlo a lei». «Cosa intendete?», domandò Garrett sorpreso, alzandosi in piedi. «Io non parlerò con Iacinth di questo colloquio. Sta a voi decidere se volete davvero intraprendere il passo finale. E se non lo farete…» Il visconte scrollò le spalle. «In tal caso lei non lo saprà mai». Concluse con una calma inquietante. «Chissà quanti uomini aveva spaventato a morte in quel modo», si chiese Garrett. «Era forse quello il motivo per cui Iacinth era rimasta nubile fino a 22 anni. Forse avrebbe dovuto considerarla una fortuna, perché in quel modo era rimasta libera per lui. Ma Iacinth si rendeva conto che suo fratello maggiore era matto?» «Se non renderete felice mia sorella», continuò Anthony, fissandolo con uno sguardo così intenso da confermare i sospetti di Garrett sulla sua sanità mentale. «Allora non sarete felice nemmeno voi. Me ne occuperò personalmente». Garrett aprì la bocca per dare una rispostaccia al visconte. Ne aveva abbastanza di trattarlo con i guanti e di muoversi in punta di piedi intorno a sua onnipotenza. Ma proprio quando era sul punto di insultare il futuro cognato, in modo probabilmente irreversibile, gli uscirono dalla bocca parole diverse. «Voi le volete bene, vero?» Anthony sbuffò impaziente. «È evidente, è mia sorella». «Anch'io volevo bene a mio fratello», disse pacatamente Garrett. «Oltre a mia nonna, era l'unica persona che avevo al mondo». «Non avete intenzione di riappacificarvi con vostro padre, allora?», commentò Anthony. «No». Anthony non fece altre domande, si limitò ad annuire dicendo con calore «Se sposerete mia sorella, avrete tutti noi». Garrett cercò di parlare, ma non trovò la voce. Non c'erano parole per esprimere quello che aveva dentro. «Nel bene e nel male», continuò il disconte con un sorrisetto beffardo. «E vi assicuro che spesso vi capiterà di desiderare che Hyacinth fosse una trovatella». «No», replicò Garrett, «non lo augurerei mai a nessuno». La stanza restò avvolta nel silenzio per qualche istante. Quindi il visconte chiese «C'è qualcosa che volete confidarmi riguardo a lui?». Garrett cominciò a sentirsi a disagio. «A chi?». «A vostro padre». «No». Anthony sembrò riflettere, quindi gli domandò «Creerà problemi con Hyacinth?». Garrett non riuscì a mentire. «Potrebbe». Era quello l'aspetto peggiore, quello che l'avrebbe tenuto sveglio tutta la notte. Garrett non aveva idea di cosa potesse fare o dire il barone, o di come avrebbero reagito i Bridgerton se avessero scoperto la verità. In quel momento comprese quindi di dover fare due cose. Primo, doveva sposare Hyacinth al più presto. Probabilmente lei e la madre avrebbero desiderato un matrimonio in pompa magna, che necessitava di mesi di preparazione, ma lui avrebbe dovuto insistere per un matrimonio veloce. Secondo, a titolo di assicurazione, doveva fare qualcosa per impedire Hyacinth di ritirarsi, anche se suo padre si fosse fatto avanti con le prove della sua incerta nascita. Doveva comprometterla il prima possibile. C'era ancora la questione del diario di Isabella. Se fosse stata al corrente della verità e ne avesse fatto cenno nelle sue note, Hyacinth avrebbe scoperto il suo segreto anche senza l'intervento del barone. A Garrett non importava affatto che Hyacinth scoprisse la verità sulle sue origini, ma era essenziale che ciò non avvenisse prima del matrimonio, o prima che l'avesse sedotta, garantendosi la celebrazione. Garrett non amava trovarsi con le spalle al muro, né essere costretto a fare qualcosa. Ma questo, questo sarebbe stato un vero piacere. Sì, mi sento una bomba.